Un saluto a tutti i campanelli di Youtube, mi trovo a Medi, in provincia di Bavia, e questa è la chiesa parrocchiale di Santi Martino e Marziano. Adesso vi farò ascoltare il concerto solenni, che suonerà per la Santa Messa dell'Ecresa, della Vigilia venuta a Pentecoste. A presto! 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 Grazie a tutti.